La stangata durerà per tutto il 2012. I dati dell'osservatorio nazionale di Feder Consumatori descrivono un quadro drammatico con mezza Italia in serie difficoltà. Tra tasse e aumenti le famiglie dovranno tirar fuori in media ben 2333 euro in più rispetto allo scorso anno. È aumentato praticamente tutto. Utenze di luce gas, treni, pedaggi autostradali, servizi bancari, libri, materiale scolastico, ma la vera impennata riguarda il costo delle materie prime e le bollette di luce e gas ovviamente ne risentono. Le associazioni dei consumatori parlano di rialzi superiori al 30 per cento ma non è finita qui perché il capitolo, generi, alimentari, è quello che registra l'aumento più significativo. La spesa di tutti i giorni infatti è rincarata di 392 euro l'anno pari al 7 per cento in più. A pesare è anche l'Imu che costa agli italiani in media circa 400 euro. Insomma passate le vacanze sarà il momento di stringere di nuovo la cinghia, le bollette saranno ancora più pesanti e il tasso di inflazione, spiegano dalla Feder Consumatori, sarà vicino al 6 per cento.